È questione di stile, oltre che di rispetto istituzionale. Incredibile come in una domenica assolata di giugno le isole di Ische Procida, votate al turismo, riescano a mancare di rispetto o addirittura a rinunciare a delle occasioni così ghiotte come la visita istituzionale di autorevoli membri del Governo nazionale. Un viceministro all'economia, una senatrice, un onorevole, il vicepresidente del Consiglio regionale, un consigliere regionale, ancorché tutti pentastellati, arrivano sull'isola di Ischia ma quasi nessuno se ne accorge. Ma ciò che è peggio è che il protocollo istituzionale dell'accoglienza venga stravolto senza troppi clamori. E dunque, alla prima tappa del tour, alle 12 di domenica mattina, ai piedi della Basilica di Santa Maria Maddalena a Casa Micciola riceve il viceministro all'economia, Laura Castelli, il sindaco di L'Acquameno, Giacomo Pascale, con tanto di fascia tricolore. Dietro di lui, Casa Micciolesi, qualche assessore, qualche consigliere, con il presidente del Consiglio, Nunzia Piro. Solo mezz'ora dopo, trafelato, arriva il sindaco Castagna, reduce dall'altare dove il figliolo ha appena ricevuto la prima comunione, per poi raggiungere la famiglia a tavola, subito dopo aver consegnato un presente all'onorevole, ai piedi dell'altare della Basilica. Del vice sindaco, inutile dirlo, nemmeno l'ombra. Altro momento istituzionale mancato, quello della tavola rotonda, convocata per le 15, presso la sala consigliare di L'Acquameno, con i sindaci delle due isole. Argomento all'ordine del giorno, i progetti unitari per Procida, capitale della cultura 2022. Presenti con il padrone di Casa Pascale, il vice di Forio, Mario Savio, il vice di Ischia di Vaia, l'assessore di Casa Micciola, Fenina Senese. Di Procida, nemmeno l'ombra, per non parlare di Barano. E a sentire qualche mugugno tra i presenti, la cosa è stata notata. Ultimo appunto, quando nella tanto vituperata Prima Repubblica giungeva sul territorio un esponente politico, la base del partito di appartenenza si mobilitava in massa per l'accoglienza. Ieri invece, né a Casa Micciola né all'Acquameno, non c'era nessuno dei professanti grillini locali. Ed anche questo credo che se lo siano legati al dito.